Informazioni di servizio 1. Ricordo che nella descrizione di tutti i video di questo canale si legge NB. Tutti i messaggi vengono trattenuti eccetto gli utenti designati. Prima di postare domande, consultate la pagina Indice Alfabetico. Se c'è già la risposta in Indici, il commento viene cancellato. I messaggi per questo video sono attivi solo fino al caricamento del video successivo. Dopodiché vengono disabilitati. 2. Per chi non riesce a scaricare il pdf del libro Il risveglio ricevuto in dono, comunico che Paypal non permette alcun link. Pertanto è necessario anteporre www.punto più il link che avete ricevuto, vale a dire tinelli.eu slash taratatarata slash taratatarata slash taratatarata punto pdf ed incollarlo sulla barra in alto del browser. 3. Da adesso in avanti elimino tutti i commenti dove vi mettete il like. Non chiedetemi come faccio a saperlo. E questo, nel caso li scopro, vale anche per gli utenti designati. 4. Da poche settimane nella pagina Indice Alfabetico, considerato che ha oltre 2700 voci, ho inserito in alto le lettere alfabetiche in modo che arrivate rapidamente alla lettera che state cercando. Aggiungo che la pagina è strutturata per navigare per le ricerche col computer, pertanto evitate di informarmi che l'indice alfabetico non funziona bene attraverso i telefonini. 5. Sono anni che, dopo aver ricevuto insulti o minacce, registro sempre i pochi dati forniti dalla piattaforma YouTube, ma vi garantisco che non avete più alcun modo di bypassare i vostri commenti e non crediate che cambiando nome potete passare. Vi lascio questa schermata, così chi ha cambiato nome più volte si riconosce. C'è anche chi ha usato altri sette nomi. Passiamo adesso alla traduzione del video I fusi orari nascondono la terra piatta col bellista mondiale francese Hervé Riboni. Il video originale arriva dall'amico TabouConspiracy3, che ringrazio di cuore. Un saluto a tutti quanti. Andiamo ad ascoltare una incredibile presentazione di Hervé Riboni. Per una veloce presentazione Hervé ha navigato attorno al mondo come partecipante della regata 1993-1994 Whitbread, dove ha circunnavigato la nostra terra piana. Hervé ha navigato per oltre 100.000 miglia nautiche ed ha attraversato l'Atlantico otto volte. Per riassumere la presentazione di Hervé, se il globo fosse vero, dovrebbero esserci 24 fusi orari corrispondenti al percorso del Sole in relazione alla rotazione della Terra, come si vede in questa illustrazione. Dovrebbero esserci 24 fusi orari al nord e 24 fusi orari al sud. Questi fusi orari dovrebbero combaciare all'incirca con le linee di longitudine e le distanze fra questi fusi orari dovrebbero essere uguali al nord e al sud, alle stesse latitudini. Penso che tutti capiscono questo. Una cosa sconosciuta, perlomeno a tutti, è che questa illustrazione è ingannevole e non combacia con la verità, perché in realtà ci sono 19 fusi orari al nord e 32 fusi al sud. Ovviamente questo non ha alcun senso sul globo. Quindi perché ci sono più fusi orari al sud rispetto al nord. È perché la Terra è piana. Secondo la Terra piana, i 24 fusi orari, come le linee di longitudine, continuerebbero ad allargarsi mentre i fusi orari si diffondono dal nord al sud, come si vede qui. Per nascondere questo, i manipolatori hanno aggiunto altri fusi orari e fusi orari di mezz'ora al sud ed hanno tolto fusi orari al nord. Per esempio, osservate che abbiamo quattro fusi orari nel continente degli Stati Uniti e due in Australia, sapendo che hanno quasi la stessa larghezza. I fusi orari nascondono la realtà della Terra piana. Comunque, vediamo la presentazione di Hervé. Ricordate che in tutti i video di questo canale non percepisco alcuna monetizzazione per i miei video o per le traduzioni. Come questa. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Hervé Ribonì, sono un terrapianista da sette anni e desidero condividere con voi alcune riflessioni per quanto riguarda l'argomento terrapiana che secondo la mia conoscenza nessuno ha ancora trattato completamente sull'argomento. Lo scopo di questo video è portare nuovi elementi per i ricercatori della verità e aiutare a progettare una mappa della terra piana. Aggiungerò alla presentazione un po' di tecnica necessaria per chi ha appena iniziato questo argomento. La mia esperienza di marinaio professionista nelle gare con barche a vela in alto mare mi ha portato ad andare in giro per il mondo oltre il cinquentesimo parallelo a sud all'estremità meridionale del capo di Buona Speranza in Africa, al capo Lewin in Australia e al capo Horn nell'America del Sud, chiamato comunemente dai terrapianisti il Grande Cerchio. Ho anche attraversato l'Atlantico otto volte e ho percorso più di centomila miglia nautiche, quindi spero che la mia esperienza possa contribuire un po' per avvicinarci a questo argomento. Quando ero skipper agivo come capitano e ho utilizzato molto le carte nautiche e quando ho scoperto la teoria della terra piana mi sono chiesto come hanno fatto i manipolatori a passare da una superficie piana ad una sfera senza che fosse troppo evidente, perché c'è qualcosa che non va con le distanze e il posizionamento dei continenti. Con che metodo i manipolatori hanno avuto successo per ingannare l'intera popolazione senza farlo apparire sulle mappe, quelle che utilizziamo? Come tutti i terrapianisti, che lo sanno già la parte nord della terra piana, ha un'area molto più piccola di quella sud, contrariamente alla sfera del sistema aliocentrico, dove i due emisferi si presume siano identici. Quindi è stato necessario passare dalla parte nord della terra piana nell'emisfero nord della palla creata dalla superficie terrestre e far crescere questa parte del mondo allungando i paesi in proporzione aggiungendo altre aree. Questa trasformazione non è stata moderata, quindi ci sono stati dei cambiamenti molto importanti, visibilmente illogici, per realizzare questo tour de force. Per iniziare osserviamo attentamente i fusi orari. I fusi orari sono suddivisi in 24 ore sulla terra come vediamo in questa immagine. Si dispiegano in modo uguale in tutto il globo da est a ovest in direzione delle longitudini. Più precisamente dovrebbero essere separati in 24 fusi orari identici, seguendo la posizione del sole rispetto alla rotazione della terra. Tuttavia, se si osserva solo la parte a nord, ci rendiamo conto che l'Alaska e il Canada sono allungati verso ovest e poi piano piano diventano fusi orari più piccoli a sinistra. Si spostano sempre di più a tal punto che in Alaska, allo stretto di Bering, l'ora locale segna le 3, mentre lo stesso tempo, nello stesso posto, in Russia, è mezzanotte, esattamente alla stessa longitudine. Qui mancano 3 ore. Da zero, mezzanotte in Russia, alle 3 del mattino in Alaska. Ad ovest dello stretto di Bering succede la stessa cosa. Si vede che mancano 2 fusi orari, quello delle 18 e quello delle 20. Quindi, in questa parte del nord del globo, ci sono solo 19 fusi orari su 24. Allungando il Canada, l'Alaska e la Russia, con meno fusi orari, qua e là, si crea lo spazio nello stretto di Bering con un'ampia distesa di mare appena sotto lo stretto. Questo crea ulteriore superficie necessaria per i manipolatori per la trasformazione. Al contrario, se manteniamo lo stesso tratto dei due continenti, ma applichiamo il fuso orario di 24 ore, finiremo con 3 fusi orari solo sull'Alaska. E attraversando queste latitudini da est a ovest cambieremo in pochi chilometri e questo non corrisponderebbe alle distanze sul modello a sfera e resterebbe sospetti. Ora, se proviamo a posizionare logicamente questi territori con i fusi orari di 24 fusi orari ufficiali, il risultato si avvicinerà molto a questa vecchia mappa della Terra Piana o a questa. Osservate bene come le lingue dalle coste del continente nordamericano e quelle della Russia sono diverse rispetto a una mappa del mondo o anche sulla mappa Gleason. Le coste sono molto più vicine sulla vecchia mappa. Secondo me, la Gleason è una proiezione della sfera. È per questo motivo che non viene censurata su internet. Qual è la differenza? Rimuovendo i fusi orari e utilizzandoli tutti non c'è più spazio aggiuntivo nello stretto. L'unica possibilità, nonostante le incoerenze, la meno illogica per i manipolatori per passare dal piano alla sfera è esattamente questa illustrazione. I radiattraversamenti ufficiali in questa zona che sono stati realizzati sulle mappe per le barche a vela, ad esempio, sono state realizzate precisamente nello stretto di Bering, il posto più vicino dei due continenti dove la distanza è di soli 83 chilometri, dove non c'è alcuna differenza tra i due modelli delle mappe. Per contro, per attraversare a sud bisogna andare a Vladivostok, 3500 chilometri più in basso, per trovare la prima compagnia aerea che va a Seattle per poi arrivare ad Anchorage. o da Tokyo a Vancouver per l'attraversata marittima. Questo lascia una vasta area, tanto per dire, di dati sulla precisione nelle mappe senza alcun traffico aereo o marittimo diretto tra i due continenti. Una regione così misteriosa è proibita come l'Antartide, che con la pseudo rivalità tra Stati Uniti e Russia dopo la guerra mondiale, scoraggia ancora oggi i curiosi di navigare in queste acque inospitali. In fin dei conti, è la zona ideale per far mentire anche le mappe. Se torniamo ai fusi orari e osserviamo i paesi un po' più a sud, i 24 fusi orari sono presenti e ogni paese utilizza l'ora del fuso orario che corrisponde alla sua posizione. E ancora più a sud, alla latitudine 49, vediamo che i fusi orari aumentano di mezz'ora. Ci sono due ulteriori fusi orari nel Pacifico Meridionale ad est della Nuova Zelanda. Pertanto ci sono ufficialmente 19 fusi orari nella parte nord del globo e almeno 32 fusi orari nella parte sud. Possiamo notare anche che i luoghi dove aumentano i fusi orari si trovano o in mare aperto come le isole del Pacifico o più giù sui litorali aperti verso l'oceano del sud come Iran, India, Bermania o Australia dove è praticamente impossibile sapere come si sovrappongono i 32 fusi orari su una sfera dato che non c'è nessuna grande terra abitata a sud di questi territori. I 32 fusi orari si perdono in mare aperto dove può essere utile ai manipolatori per nascondere questa trasformazione. Vediamo anche che gli Stati Uniti e l'Australia che hanno praticamente la stessa larghezza 4.000 km per l'Australia e 4.500 km per gli USA come funzionano sul globo. hanno anche una posizione sulla latitudine paragonabile anche se gli Stati Uniti sono un po' più a nord rispetto all'Australia a sud. Il paragone della latitudine è comunque abbastanza simile per fare il confronto dei fusi orari di ogni paese utilizzando la loro larghezza. Se riportiamo la loro posizione e la loro larghezza sul globo vediamo che la larghezza dei fusi orari tra nord e sud rispetto alla loro posizione sulla latitudine non sono abbastanza diversi per giustificare una differenza del doppio dei fusi orari. In effetti notiamo che ci sono 4 fusi orari negli Stati Uniti e solo 2 in Australia che ha la stessa larghezza del paese. Anche se in Australia aggiungono mezz'ora nella zona centrale per farci credere ad un terzo fuso orario e sempre sull'Australia c'è questa falsa proiezione che si sovrappone al fuso orario delle 22. in realtà gli australiani hanno solo due fusi orari per il passaggio del sole che sono effettivamente usati come si vede qui. Nelle illustrazioni dei fusi orari dell'Australia appare molto meno più stretta degli Stati Uniti come fanno vedere nei fusi orari di 22 ore secondo me non è la realtà poiché questo fuso orario non viene utilizzato. La differenza di larghezza avviene perché i fusi orari sono paralleli su questa illustrazione quindi in realtà sulla terra piana si allargano quando si dirigono verso sud che è coerente con la grande larghezza e l'utilizzo in Australia di soli due fusi orari rispetto ai quattro fusi orari per gli USA. Se collochiamo gli USA e Australia sui fusi orari della terra piana allora i fusi orari utilizzati in entrambi i paesi sono logici poiché i fusi orari non si allargano a sud su questa proiezione è obbligatorio allargare le superfici di terra a nord per mantenere i fusi orari paralleli e mantenere così l'aspetto della palla con i due emisferi simmetrici. Vediamo che non ha alcun senso su una sfera con due emisferi simmetrici mentre è molto più coerente su una terra piana con la parte nord più piccola di quella sud. Sul diagramma semplificato della terra piana le zone modificate dai manipolatori assomiglierebbero a queste. Più ci allontaniamo dal centro più i manipolatori devono modificare i fusi orari cercando di nascondere le distanze maggiori e cambiare le aree al sud rispetto al nord. Per completare la circonferenza della terra vediamo che continuando verso est qui l'ampiezza dei paesi diminuisce da nord a sud per trovare il fuso orario corretto alla longitudine zero di Greenwich con il sole nuovamente ben posizionato pronto per il prossimo giro. Visto che stiamo parlando dell'Australia e degli Stati Uniti c'è qualcosa di interessante ad osservare qui. Prendiamo due tragitti dove confrontare quello negli Stati Uniti da Savannah a San Diego e quello in Australia da Sydney a Perth sono molto vicini ai 3900 km entrambi i due tragitti e in quello degli Stati Uniti siamo al 33esimo di latitudine nord e quello dell'Australia al 33esimo di latitudine sud quindi data questa disposizione uno potrebbe chiedersi com'è la terra piana che ha i fusi orari più ampi al sud che al nord come possiamo vedere una differenza sull'alba e il tramonto e il tramonto vale a dire sulle ore che avremo a Sydney dal sorgere del sole e a Perth per il tramonto del sole la stessa cosa ovviamente per l'alba e Savannah e poi a San Diego per il tramonto qual è la durata della luce del giorno rispetto al sostizio o l'equinozio allora quello che è interessante è che non c'è assolutamente nessuna differenza tra i due sono di una simmetria perfetta le durate i tempi di sole sono esattamente le stesse per la distanza al 33esimo grado di latitudine sud e i 33 gradi di latitudine nord perché è così perché la terra è un globo per niente andiamo a vedere subito perché è così quindi cosa definisce la durata di tempo del sole fra l'alba e il tramonto tutti i terrapianisti sanno come si muove il sole da est a ovest così quando il sole è nella nostra cupola oculare questo è ciò che definirà l'alba e il tramonto quindi abbiamo il nostro piccolo osservatore qui la cupola della sua visione schematicamente è fatta così nel momento che il sole arriva nella parte inferiore della nostra cupola visiva è l'alba quando è mezzogiorno è sopra di noi e poi al tramonto quando esce dalla nostra cupola di visione è a causa della prospettiva quindi cosa succede se prendiamo lo stesso osservatore ma lo guardiamo dall'alto che è qui bene secondo l'angolo che prenderà il sole nel suo corso nel cielo determina ovviamente la durata del sole così per il solstitio d'inverno se abbiamo il nostro osservatore qui il sole sarà più in basso sull'orizzonte all'equinozio un po' più alto quindi per il sostitio d'estate se stiamo parlando dell'Australia lì che sarà più alto nel cielo per l'osservatore se stiamo parlando del 33esimo grado quindi non sarà molto lontano dallo zenith comunque ancora per un po' più di tempo dunque questo è ciò che definisce la durata della luce del giorno e così è normale che non abbiamo una grande differenza tra nord e sud poiché non c'è differenza di larghezza dei fusi orari che va a dare una differenza della durata della luce del sole è anche per questo che i manipolatori possono imbrogliare con i fusi orari che sono più larghi a sud rispetto a nord ma fintanto la durata dei giorni diurna è definita dalla nostra cupola di visione personale che è unica per qualsiasi osservatore sulla terra è ovvio che è difficile vedere la simmetria che esiste tra nord e sud quindi c'è veramente differenza fra il nord e il sud che possiamo notare? Sì ce n'è una ed è prima che sorgia il sole e dopo il tramonto nella parte a nord avremo molto più chiaro prima dell'alba rispetto alla parte sud e vedremo molto più chiaro dopo il tramonto nella parte a nord quindi più chiaro dopo il tramonto nella parte nord perché il sole nella parte meridionale se ne va molto più velocemente rispetto all'osservatore per l'osservatore che è a nord vede il sole con un cerchio più stretto che rimarrà più vicino e più a lungo ecco perché avremo serate più lunghe serate estive più lunghe nella parte a nord mentre nella parte meridionale l'oscurità arriva rapidamente lo notiamo anche noi che è ancora più evidente quando navighiamo perché non ci sono montagne che nascondono il sole così nell'emisfero nord durante la navigazione vicino al sostizio d'estate in estate vicino al cinquantesimo parallelo nord andiamo ad avere il chiaro molto più a lungo vedremo anche la luminosità del sole dietro l'orizzonte tutta la notte cosa che non ho mai visto nell'emisfero australe al cinquantesimo di latitudine sud fusi orari cancellati allo stretto di Bering il grande problema da risolvere per i manipolatori è stato lo stretto di Bering mancano le tre ore in Alaska per completare le prime dodici ore del fuso orario i manipolatori avevano bisogno di un miracolo allo stretto di Bering inoltre dovevano fermare il tempo per tre ore oppure andare avanti fino alle 21 per trovare il tempo corretto del giorno dopo ma come farlo e cosa c'è di così speciale allo stretto di Bering è quello la linea di cambiamento di data la linea di cambio data la linea di cambio data ufficialmente sulla sfera è fatta in questo modo da dove provengono due fusi orari che sono stati aggiunti i 13 e 14 che sono qui ovviamente per dare l'illusione della simmetria della palla una volta che i manipolatori hanno ulteriori fusi orari 13 e 14 si riesce ad aggiustare la riga del cambio della data se la guardiamo sulla terra piana ci si rende conto che il 13 e il 14 possono andare molto bene fino alla fine della terra piana qui per poter raggiungere altri fusi orari e in questo caso lo faremo ovviamente mettendo il numero 1 del fuso orario che dovrebbe normalmente trovarsi proprio qui vicino alla nuova Zelanda dove potremo spostarlo dopo i due ulteriori fusi orari perché c'è solo mare non vive non vive nessuno nessuna terra abitata quindi possiamo spostare tutto e ricominciare con i fusi orari 1 2 3 4 5 6 7 fino al Sud America bene si sono assicurati di far apparire i due fusi orari extra 13 e 14 all'equatore perché al nord non possono aggiungere i fusi orari ma li rimuovono ne rimuovono alcuni per mantenere l'illusione della simmetria della palla quindi lo fanno partire dall'equatore per arrivare in fondo alla terra piana e poi siccome non c'è alcuna terra abitata ad est della Nuova Zelanda possiamo benissimo iniziare col primo fuso orario ufficiale ad est dei due fusi orari che hanno aggiunto possiamo anche dire che la linea del cambio di data è il posto ideale per rimuovere o aggiungere fusi orari perché c'è il cambiamento di data ed è molto meno ovvio che si possono perdere ore o aggiungerne specialmente perché le persone non sono allo stesso giorno su un lato e l'altro della linea del cambio di data così il confronto è ancora più difficile quindi proprio sulla linea di cambio data dove hanno rimosso due fusi orari per l'Alaska che inizia alle ore 3 e ne hanno aggiunto due dall'equatore giusto sulla linea del cambiamento di data ma sull'insieme della sfera ne abbiamo quattro che sono state cancellate al nord e almeno otto nel sud che sono state aggiunte quindi in questa zona non ci sono terre abitate quindi non c'è alcun riferimento su lunghezze sulla lunghezza sulla distanza che dovrebbe essere quella di un fuso orario quindi se facciamo l'esempio dei concorrenti del Van de Glove quando navigano in questa zona loro non riescono ad avere alcun riferimento dato che sono stati aggiunti due fusi orari falsi e non possono notarlo quindi per andare un po' più avanti con la spiegazione della deformazione ho tracciato la declinazione magnetica ci sono altri due video per comprendere il perché e come li hanno inventati perché sono stati inventati hanno istituito una variazione magnetica per poter fare la trasformazione della terra piana a quella sfera e poter utilizzare le mappe della sfera mentre ci si trova su una superficie piana quindi ci sono questi due video ma diciamo per riassumere che la parte meridionale magnetica devierà la devierà la declinazione devierà in questa direzione qui in modo che questo corrisponda ai nostri due fusi orari che sono stati aggiunti qui per spostare le direzioni delle barche che verranno dirottate in questa direzione per il nord è più una trasformazione da una superficie piana in un emisfero perché si tratta di allungare la superficie terrestre questo è tutto per questa presentazione se volete vedere entrambi i video sulla declinazione magnetica che spiega come sono riusciti a trasformare le nostre mappe di una superficie piana in una sfera le mappe che utilizziamo le trovate sul canale di Taboo Conspiracy dove è spiegato in inglese ma è un inglese elementare dato che sono io a fare la presentazione quindi vi dico a presto e grazie del vostro ascolto grazie a tutti grazie a tutti